costruire il meno possibile l'Empoli dal basso, tant'è che entrambe le centrali dell'Empoli sono costrette ad andare dentro l'area e qui ruba palla Giacinti con Fifi che segna! L'avevo appena detto che questa pressione stava dando frutti e Roberta è arrivato al gol del vantaggio Assolutamente sì, Fifi va in pressione sul centrocampista che si abbassa e ha dato risultati, è stata bravissima a intercettare la palla e poi bravissima a far gol Recupera Bergamaschi